Sono tutti negativi i tamponi effettuati sui pazienti in tutto 20 ospitati dal reparto di riabilitazione dell'Istituto Agazzi di Arezzo. I controlli si sono resi necessari dopo la notizia dei tre contagi, un ospite e due operatori all'interno della struttura che ospita i pazienti e offre servizi ambulatoriali. Tutto sospeso al momento sia il ricovero che i trattamenti diurni ambulatoriali. È esclusa, lo ribadiamo, la palazzina che invece ospita circa 100 disabili non interessata dal contagio. Negativo anche il tampone per il dottor Giorgio Apazzi, direttore sanitario della struttura. Quella sospesa è però un'attività importante per Arezzo e non solo. Si tratta appunto della riabilitazione per patologie ortopediche o neurologiche causate da eventi acuti. Un servizio ben noto, scrive in una nota l'Istituto stesso, a tutti per l'altissimo livello di qualità degli interventi garantiti, grazie alla qualificazione e professionalità dei suoi operatori e alla dotazione di apparecchiature e tecnologie per la riabilitazione. Il dispiacere dell'Istituto, chiude il comunicato stampa, nel non poter continuare ad offrire gli abituali servizi per la riabilitazione, è mitigato solo dalla consapevolezza che sarà un'interruzione di breve durata.